rimane sempre molto alto il brasiliano Bonucci verso Alexandro al volo la mette dietro Iguain sponda Mangiuchic prova Rata Rata credibile Mangiuchic credibile Ravasciata fantastica Beffata Lomas 1-1 Che azione molto bravi a cercare con calma la fascia laterale il cross è perfetto per Iguain che di sponda ovviamente serve Mangiuchic che non ha solo un'opportunità quella di stoppare e con grande coordinazione mettere questa palla proprio con un pallonetto una rovesciata sull'altro pallo di Namas un po' fuori dalla porta